Dunque, presentiamo un Ultrabook 2 in 1, si chiama AX3, ha la caratteristica di essere sia tablet che notebook. Lo schermo si ruota di 360 gradi e quindi consente l'utilizzo in modalità tablet, sfruttando le elevate capacità di visualizzazione del display in tecnologia IPS. È un prodotto che si caratterizza per un'elevata robustezza, è stato pensato per il mercato professionale e quindi per tutte quelle applicazioni di mobilità dove leggerezza, capacità della batteria che dura 12 ore e robustezza alle cadute rifanno la differenza.